Bentornati a questo contributo filosofico, a questo corso di filosofia online su YouTube. In questo video metteremo Galilei in tensione con Aristotele per far sorgere, per trasmettervi la novità del suo metodo scientifico e tentiamo di rispondere alla domanda come fece Galileo a raggiungere tali risultati e a farlo diventare di fatto con Keplero il padre della rivoluzione scientifica. Allora, la risposta che viene data più frequentemente a come fece Galileo è quella per cui fino a Galileo gli studiosi della natura si limitavano a ripetere quanto insegnava Aristotele, mentre Galilei fu il primo a comprendere il valore delle sensate esperienze, dell'esperimento, dell'esperienza. Questa risposta è sicuramente chiara e lineare e facile da memorizzare, purtroppo allo svantaggio non secondario di essere clamorosamente erronea. Perché? Perché basta dare una scorsa agli aristotelici precedenti per capire come già Pietro Pomponazzi avesse messo in discussione l'ipsedixit aristotelico e che l'appello all'esperienza non era certamente maturata con Galileo, ma già lo stesso Aristotele aveva richiamato, aveva fatto un accorato appello appunto all'esperienza, ma anche pensatori medievali come Ockham che su questa base, sull'esperienza, aveva richiamato ed escluso l'esistenza degli universali, ma anche già i maghi rinascimentali avevano messo in discussione il maestro greco Paracelso, indubbiamente, ma come dimenticare le dispute oxonienzi di Giordano Bruno appunto con i dottori aristotelici di Oxford. Inoltre, il sistema tolemaico si basava su dati osservativi che è difficile tutt'oggi mettere in discussione, prima su tutti il fatto che il sole si muove e la terra no. Più in generale, la fisica aristotelica si basava appunto sull'assunto, difficile da contestare che se si mette in un recipiente sabbia e acqua, alla fine tutta la sabbia che è più pesante si depositerà sul fondo, mentre l'acqua che è più leggera sarà sopra di questa, e ancora sopra si posizionerà ancora più leggera l'aria. Vi ricordate nel precedente video abbiamo parlato di come la fisica aristotelica si fondasse appunto fra i tanti sulle categorie di pesantezza e di leggerezza. Più in generale, la fisica precedente a Galilei si basava appunto su un assunto anch'esso ricavato dall'esperienza quotidiana, dall'intuizione quotidiana, che sembrava a tutti indubitabile, no? Anche oggi si vede una persona e mi dice guarda ma noi la terra si muove, compie una rotazione su se stessa e attorno al sole. Rotazione e rivoluzione, no, io potrei dire, tranquillamente a un bambino, gli potrei dire, no, noi siamo fermi, immobili, non ci stiamo muovendo assolutamente. Eh, giusto a un bambino. Sulla terra le cose nascono, muoiono e si corrompono. Nei cieli invece tutto resta sempre immutabile ed eterno. Anche questo ce l'aveva detto Aristotele, perché il cielo resta le fisse, il mondo sublunare dei quattro elementi, che è quello dove siamo immersi anche noi come accidenti, e poi il mondo perfetto dell'etere. Ora, sulla base di questo principio Platone giunse alla conclusione che il mondo dell'esperienza fosse illusorio e che non è soggetto alla vera conoscenza scientifica, la quale è invece possibile in matematica e astronomia. Attenzione, matematica e astronomia. Galilei è lettore di Platone. Senza la lettura di Platone, questo lo diciamo sempre, perché l'importanza di leggere i maestri precedenti, perché per poter fare delle scoperte non si può partire da zero. Chi è ignorante non può fare delle scoperte. Fa le scoperte chi ha riflettuto, ha meditato su quello che è successo precedentemente, ma un ignorante, uno che non ha mai toccato, non ha mai studiato fisica, da oggi a domani, sì, vabbè, ci può essere un genio, una tantum, ma dei principi di fisica basilari li deve avere. Einstein ovviamente prende rivoluzione alla fisica, ma perché supportato dalla fisica classica newtoniana, no? Quindi, vedete, Platone, Aristotele, comunque lavorano in Galileo. E Galileo può allontanarsi dai suoi maestri proprio perché li ha studiati. Noi possiamo allontanarci dai nostri maestri solo quando li abbiamo studiati, li abbiamo compresi, li abbiamo fagocitati, e allora lì possiamo restituire una nuova visione o fare uno scatto in avanti, i famosi cambi di paradigma di Thomas Kuhn, solo se però abbiamo avuto un trampolino di lancio. Quindi con l'ignoranza non si combina mai niente, questa è già una tese a favore della conoscenza. Calerei ci porta a un nuovo metodo di approccio all'esperienza, però sì, Aristotele diceva, signori, l'esperienza, però Galilei ci porta a un nuovo metodo di approccio all'esperienza. Tramite un lungo e tortuoso percorso, Galilei è erede quindi delle tradizioni passate. È formato allo studio della matematica nella platonizzante Firenze, è giunto alla maturità come ricercatore nell'aristotelica Padova e ebbe un'idea di portata sconvolgente, destinata a mutare in maniera definitiva la nostra coscienza, la coscienza umana, cioè quella di matematizzare l'esperienza e così facendo di renderla oggettiva e assoluta, cioè erga omnes, fruibile da tutti, come quella appunto degli assiomi e euclidei. Ora, l'idea di Galilei che trova la più celebre e compiuta espressione in un passo del saggiatore è che appunto tutto l'universo sia stato creato da Dio seguendo però dei principi matematici o per usare la sua espressione che la lingua in cui è scritto il libro della natura sia la matematica. Quindi il lavoro del ricercatore si tramuta nella traduzione in una vera opera di traduzione di ciò che vediamo in termini numerici. Per usare un esempio tratto dal film Matrix si tratta in un certo senso di comprendere il programma e quindi le interminabili sequenze numeriche che di fatto costituiscono la realtà. Senza questa comprensione la ricerca è inutile e corrisponde a girarsi, a essere come dei topolini ciechi in un labirinto bianco. Qui vengono introdotti i concetti galileiani al massimo, no, ma qui ci fermiamo perché dobbiamo indagarli con più attenzione. Ci fermiamo qui, parleremo nel prossimo video delle sensate esperienze, delle necessarie dimostrazioni e del metodo come misura quantitativa. Grazie per la vostra attenzione, bontà vostra, iscrivetevi al canale se conoscete persone che tramite questi video possono ripassare in vista di un esame liceale, universitario oppure dei ghiottoni buongustai autodidatti fate iscrivere le persone a questo canale fate circuitare i video lasciate un like movimentate la bacheca qua sotto e guardate sempre i link in descrizione dove lasciamo dei suggerimenti per l'approfondimento del tema trattato in ogni video. Grazie, botta vostra alla prossima aspettiamo i 10 minuti. Grazie a tutti.